Ecco, Carlo Petrini, questa cosa del locale chiaramente ci richiama il territorio, il paesaggio e noi stiamo oggi in un territorio, il Veneto, che invece ha vissuto nei decenni passati dalla voglia della zona industriale sotto ogni campanile, strade costruite, eccetera, eccetera. Oggi, lei ha intervistato sul giornale di Vicenza, diceva che è il momento di ritrovare il concetto di comunità e di fare in modo che le comunità si riappropriano dei luoghi, dei tempi, dei paesaggi e delle produzioni. Partiamo da questo concetto e proviamo a sviluppare quello che prima diceva anche lui avanti. Il concetto di territorio, se non è, come dire, immediato, vissuto dalla comunità, rischia di essere un concetto non protettivo. È la comunità che dà senso al territorio. Un amico di Slow Food, si chiama Edgar Morin, ha fatto ultimamente questa analisi, è arrivata una venerata in età di 88 anni, quasi 90 anni, dice se io mi guardo attorno con questa crisi, questa situazione e vedo le forze in campo e vedo la politica che non sta governando, che siamo in assenza di una povera massa internazionale anche di rispondere, in grado di rispondere a certi disastri, compreso quello, il disastro ambientale che giorno dopo giorno è sempre più compromesso, mi avrebbe voglia di dire che la battaglia è persa. Poi, dicevo lei, mi guardo attorno e vedo le migliaia e migliaia di comunità che nel mondo praticano quella che è un modo d'essere, un modo di vivere, un modo di intendere i beni comuni e le praticano attraverso delle pratiche quotidiane anche molto semplici che la politica non intercetta, ma che sono tutti gli effetti lati, il vero senso della politica. E quando io vedo e vedo questa giovane amministrazione che fa questo tipo di ragionamento sul bene comune, si allarga a cuore, si allarga a cuore, perché a vedere a che punto è arrivata la politica in questo Paese e come si sono appropriati della morà in maniera svinente, io penso che la dimensione locale possa garantire questo anelito di speranza. Sono anche confortato dal fatto che negli ultimi otto anni con la rete di Terra Madre questo tipo di segnale lo avvertiamo e lo avvertiamo in maniera diversa da paese a paese. Perché? Perché nella profonda Africa, ma anche negli Stati Uniti d'America, nel Nord Europa, così come nelle Ande Peruvane, il senso delle comunità che si mobilitano sulle tematiche di difesa della Terra Madre, di difesa del patrimonio del bene comune della Terra, dell'acqua, della socialità, del mantenere vivo anche la memoria, ecco tutto questo è una prassi che esiste. L'interessa se la politica non è ancora capita, un ciò o l'altro la dovrà capire per forza, per forza, perché questo movimento è molto più forte e molto più radicato di quello che si può pensare. E vista poi da un osservatorio particolare che è quella della politica del cibo è ancora più interessante, è ancora più interessante. Perché vedete, la fortuna del nostro movimento è che ci ha mai preso troppo su serio. Questa è una cosa che va benissimo. Nello stesso tempo, per non essere preso su serio, noi abbiamo potuto costruire con carne, con pazienza un legame forte con le comunità, in maniera tale di portare ad emergere quello che in fondo è il bene comune primario. Noi siamo diventi perché mangiarsi. E questo rapporto con la Terra che noi abbiamo dimenticato, gioco forza, lo dovremmo riprendere. Ho sentito che adesso farete la pratica della cucina degli avanzi. Ma siate felici. Guardate che mangerete benissimo. Chi pensa che la cucina degli avanzi non si sia, come dire, una sorta di penitenza che in questa situazione del momento dobbiamo correre ai ripari e fare la cucina degli avanzi. Non ha capito niente. Perché tutta l'alta cucina italiana, nella storia della cucina italiana, è la storia della cucina degli avanzi. Il più grande piatto della Toscana è la ribollita, che si fa col pane della terra. Il più grande piatto del mio Piemonte sono le ravioli, gli agnolotti. Il richiedo degli agnolotti mia nonna lo faceva con gli avanzi della settimana. Metteva sotto la mezzaluna, ovviamente ci metteva un po' di spezie che coprivano. Chiudeva l'agnolotto, chiudeva l'agnolotto ed era un mangiare straordinario. Questa è la sapienzialità. Ultimamente ho incontrato il guardiero Marchese, grandissima scelta. Mi fa sempre che arrivo in ventanto l'agnolotto aperto. E io te lo faccio assaggiare. Me lo fa assaggiare una sfoglia, un ripieno, un'altra sfoglia. Sembra una lasana. Buonissima, buonissima. incontro una di queste donne emiliane, che chiamano le arrestore, voi dovete sapere che lungo la via emiliana, ogni chilometro cambia il tortello, tutti, 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 tutti. Ogni chilometro cambia. Io dico a una di queste donne, sai che il guardiero Marchese ha inventato l'agnolotto aperto? Questa di qualche fa. Mo ci abbiamo messo quattro secoli a imparare a chiuderlo. La cucina degli avanzi non è la cucina in cui dobbiamo ripiegare perché questa è la crisi. Perché la cucina degli avanzi è una qualcosa che ci restituirà felicità. Il ragionamento che stanno facendo in questi giorni sulla decrescita non deve essere vissuto rispetto alla crisi magonosa come stiamo vivendo nei italiani. Vi posso dire una cosa, sono tornato adesso dal Brasile, non c'è magone, ma non c'è magone come qui. Qui stiamo, siamo in un momento di magonosità collettiva, con questo spread. La questione che dobbiamo affrontare rispetto ai beni comuni è la vera natura di questa crisi. La vera natura di questa crisi ci deve portare a nuovi paradigmi e i nuovi paradigmi devono essere anche, come dire, propositi di libertà, di liberazione. I nuovi paradigmi devono liberarci dall'incrostazione che ci hanno portato in questa situazione. Allora, l'estrema sintesi, chi pensa che questa sia una crisi lineare e sta attendendo la crescita, si mette al cuore in pace, si mette al cuore in pace. Adesso, ieri, Monti diceva nel 2013, vediamo, lo vede lui, affidiamoci, ma guardate che non è così semplice. Questa è una crisi di sistema. La crisi lineare, con alcuni aggiustamenti e ricreando lo spirito della domanda, dell'offerta, dei nuovi consumi, può anche far riuscire. Questa è una crisi entropica. Questa è una crisi entropica. E questa è una crisi entropica non italiana, ma mondiale, che si chiama tutti alla responsabilità. Proviamo a parlare di entropia per quello che riguarda il mondo dell'alimentazione. Il cibo è l'energia della vita. Quindi, noi produciamo il cibo, della zanna, carne, latte, quello che produciamo ci dà cento di energia. Se per produrre questo cento di energia che entra nel mio corpo e mi dà la vita, va bene? Io consumo trecento di energia. Un anno, due anni, dieci anni e poi arriva la crisi entropica. Siamo in piena crisi entropica. Vale a dire che il concetto di pensare che la nostra terra madre abbia risorse infinite è un concetto sbagliato. La finitezza delle risorse incomincia a essere evidente su scala mondiale. Tra pochi anni era un grande problema per l'acqua e sarà causa di guerra, più che il petrolio. Ma è evidente, perché se il 76% dell'acqua va per la produzione agricola, 76% e si spreca in maniera enorme quest'acqua, consegneremmo alle future generazioni un disastro. Siamo in presenza di una crisi che chiede nuovi comportamenti. Allora, per tornare alla nostra situazione, il discorso dello spreco non è un discorso così, messo così a casaccia, è l'essenza. La FAO dice che noi produciamo cibo per 12 miliardi di miletti. Siamo 7 miliardi. Un miliardo non mangia. Questo vuol dire che il 50% del cibo va a finire nella spazzatura. 50%. Nel nord e nel sud del mondo. Nel sud per altri motivi. Ma il 50%. Ora, se le indagini democratiche dicono che entro il 2050 saremo 9 miliardi delle due luna. O aspettiamo le chimere di chi dice che bisogna produrre di più e continuare a stressare la terra madre per produrre di più, cosicché con queste percentuali produrremo cibo per 18 miliardi di miletti e lo spreco sarà ulteriormente implementato o altrimenti cambiamo il paradigma. E il cambiamento del paradigma è esattamente questo. La lotta senza tregua allo strego. E da questo punto di vista non c'è salto di politica. Certo, avessimo la politica al piatto ci potrebbe anche aiutare. Ma siccome non c'è, siccome non c'è, perché questo concetto produttivistico è sempre ulteriormente implementato, ieri ero a Bruxelles e il presidente della commissione agricoltura sosteneva che bisogna produrre di più, va bene, non c'è ancora. Sono le comunità che lo metteranno in pratica in questo concetto, per forza di cose, per forza di cose. E sarà una delle vie obbligate. E la riduzione dello spreco, il bene comune, la difesa dei beni comuni e anche un nuovo concetto rispetto all'alimentazione, sarà quello che ci salva. Ma questo deve partire da noi. Questa è una rivoluzione lenta, dolce che deve partire dai nostri comportamenti. Perché anche noi siamo complici di questa situazione. non solo la politica, anche noi. Guardate, questa sera quando andate a casa, date un bacio ai vostri bambini. Però subito dopo, subito dopo, guardate il mio piacere, guardate il mio piacere. Aprite i vostri primoreferi. I nostri primoreferi. Guardiamo che tombe di famiglia teniamo in casa. Prezzemoli che da venti giorni sono lì, dice, fai qualcosa, non ne posso più. Mettimi sotto una mezzalora, un frullatore. Basetti gli conserva con un leggerissimo strato di muffa. Il giorno per giorno l'aumento e fino a tutto che passa dal tribo alla spazzatura. Siamo anche noi dentro questo sistema. Il cibo ha perso valore. Il cibo è commodity. Siamo solo più attenti al prezzo. Il prezzo deve essere basso e il valore non ha nessun valore. Io vi ricordo, mio nonno ha finito di mangiare, raccoglieva il prezzo sulla tavola. Nel meridione d'Italia quando cadeva il pane lo prendevano e lo baciavano. Adesso da più valore. Solo prezzo. E anche se si punta via, ma nessun problema. E siamo a queste cifre. La crisi entropica non ci consentirà di continuare in questo mondo. Perché c'è una fine anche per la specie umana, anche per l'homo sapiens. E la questione dell'escaldamento globale, delle problematiche dell'acqua, della fertilità dei suoni, ci chiama a tutte le nuove responsabilità. E' questo il motivo per cui noi dobbiamo puntare decisamente sulle comunità. Le comunità che si trovano anche in situazioni come queste, ma nella pratica quotidiana, possono essere la via di salvezza. E tante comunità nel mondo, credetemi, si stanno muovendo su questo fronte. C'è quasi da dire un nuovo senso planetario su queste tematiche. Indipendentemente dalle religioni, dal modo d'essere, le comunità incominciano ad affrontare un problema in modo molto serio.